L'Asola viene colpita a freddo dal Vobarno e si deve inchinare ad una delle corazzate del girone. Peccato per i biancorossi di Franzini che se la giocano alla pari ma restano al quinto posto in classifica e il Cellatica allunga più 10. Ad oggi il distacco dalla seconda escluderebbe gli isolani dai playoff nonostante la posizione acquisita. Nel rush finale quindi ci sarà da recuperare terreno per non lasciar sfumare l'obiettivo. Pronti via e dopo 40 secondi gli ospiti sono già in vantaggio con sec che sfruttano in decisione difensiva e in pallonetto beffa Marcolini. L'Asola risponde al trentesimo punizione di Bovi che pesca buon aiuto strepitosa la risposta di Arrighi. Successivamente di nuovo pericoloso il Vobarno con uno stacco di sec da corner alto di poco sopra la traversa. Ancora buon aiuto batte un colpo per l'Asola ma il pallone termina fuori misura. Nella ripresa il Vobarno trova subito il raddoppio con lo stacco vincente di Rassega sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Asola reagisce subito e al 55esimo accorcia le distanze con il quarto gol consecutivo di Chiari. Un minuto dopo termina fuori un'interessante iniziativa di Burato. Al 58esimo è Marcolini a salvare in angolo sul tiro di Giardini. Nella seconda parte di ripresa ci prova due volte Bovi ma il risultato non cambia più nonostante una prova generosa da parte degli Asolani quindi i tre punti se li intasca il Vobarno.